Volevo presentarvi i ragazzi negli anni Ottanta, che cioè negli anni Ottanta c'erano vent'anni. Alla mia sinistra, dove c'è sempre Andy per noi, è una cosa che anche se ci sono stati dei tarristi di Ottimo Bello, ma per noi c'è sempre Andy. E qui c'è Fabio Lanciotti. Grazie, sono sempre io, anche sono sempre io. Secondo me tu li racchiudi un po' tu, ti rendi, muoci, proprio tutti. E poi abbiamo il biondissimo... Che è? Perché ridi? Il biondo. Oh, perché ho i 18 anni? Eh, sì. Nick Rhodes, cioè Antonello Riva. Dietro il plexiglass. Andran, cioè nell'acquario. C'è Roger Taylor, ma è per noi Alessandro Maralmi. E ci lo dobbiamo prendere qui. Abbiamo fatto il provino per prenderlo bello. Ma ci siamo riusciti. Ma ci siamo riusciti. John Taylor, eccolo qui. C'è Stefano Tosti. Alla voce, il nostro Simon. Sergio Colantoni. Grazie. C'è la sua mamma e c'è la mia mamma. Praticamente volevamo salutarvi. Voglio ringraziare comunque il Geronimo e tutto lo staff che ci ospita qui a questi eventi che ci piace sempre ricordare su cui Duran noi. A noi piacciono un mondo. Penso che è una condivisione poi sul web. Vorrei ringraziare anche tutte le persone che ci spediamo sul web per condividere queste emozioni e la musica adorando noi. Chi? Il Sorcia? Ha detto che non lo devo chiamare, Sorcia. No, veramente. Un applauso per Alessandro Laconsolo. E Luca. Luca, veramente fanno dei miracoli per far sentire tutto bene. Vi salutiamo con questa che è un po' l'inno, ricordato un po' l'inno degli anni Ottanta, anche se non sono solo questo. ma sono rappresentati sempre con quei ragazzacci dei World Boys. Un saluto a tutti. Alla prossima. Tutti! Un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti